Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le dichiarazioni dei redditi dei deputati. La Jaguar del 1996 di Giuseppe Conte, il milione e mezzo di Tremonti e i 9.000 euro di Soumaoro, che diceva che con le vendite del suo libro la banca gli aveva fatto un mutuo di 270.000 euro. Naturalmente era ovvio che era una bugia, ma qualche boccalone c'è cascato. C'è ancora gente che è dalla parte di Abu Bakr, ma funziona così in Italia e nel mondo. C'è sempre qualcuno che crede a qualcun altro, anche quando palesemente non gli si può credere. Comunque, in ottemperanza alle disposizioni di legge, le pagine personale di ciascun deputato della Camera è pubblicata la documentazione patrimoniale e di reddito. Sul sito di Montecitorio ci sono, li potete vedere anche voi, ci sono le dichiarazioni dei redditi. Bene, dichiarazioni 2022 che sono riguardanti i redditi del 2021. Giuseppe Conte, leader dei Cinque Stelle, ha una Jaguar del 1996, è un po' vecchiotta, macchine che non tramontano comunque, però quando cominciano ad avere degli anni, problemi... Vabbè, comunque, una Jaguar del 1996 e ha dichiarato redditi per 34.095. Caspiterina, se confrontato con i suoi redditi passati, che erano da milione, circa un milione di euro, dal milione a 34.095, è un bel salto, insomma. Giulio Tromonti sfiora 1,6 milioni di euro. Bruno Tabacci, una Fiat 500 del 2009, da 15 cavalli fiscali, così come redditi denunciati da somma oro a 9.000 euro. Poi abbiamo, come vi dicevo, Tremonti, 1.600.000, una Jeep Grand Cirocchi, una Land Rover Defender, vari fabbricati tra Pavia, Roma e Cadore e Belluno. Edmondo Cirielli, collega del partito, proprietario o comproprietario di otto fabbricati, terreni o abitazioni, pur disponendo di una sola auto, un Alfa Romeo Giulietta, ma con un reddito imponibile di 196.000 euro. Andrea Del Mastro delle Vedove, avvocato e sottosegretario della giustizia, di terreni e fabbricati ne ha dieci, in comproprietà a Biella nel Vercellese, viaggia in Alfa Romeo, Brera, Spider, è socio di due società, di cui un immobiliare nel 2021 ha dichiarato redditi per 177.000 euro. Lollo Brigida, il cognato di Giorgia Meloni, ministro dell'Agricoltura, di fabbricati ne ha dichiarato uno a Roma, ed è un Alfa Romeo Stelvio, l'auto su cui viaggia, con 104.000 euro imponibile di reddito. Gianmarco Mazzi, manager e autore televisivo, è proprietario di dieci fabbricati e terreni a Verona, di auto ne dichiara due, è una Tuareg e una Renault Scenic, con reddito di 218.000 euro. Eugenia Roccella, ministra delle pari opportunità della famiglia, ha azioni investite in varie società, un reddito imponibile di quasi 51.000 euro. Nella Lega, il presidente della Gamera Frigerio, si ferma a 99.000 euro, mentre Giorgetti, proprietario di tre fabbricati e terreni nel Varesotto, viaggia su una Volvo ed è socio di una cooperativa di pescatori sul lago di Varese. 99.000 euro è il suo reddito imponibile. La magistrata Simonetta Mattone, tra Gaeta e Roma, è proprietaria in parte di ben 43 fabbricati, con un reddito complessivo imponibile di 213.000 euro. Riccardo Molinari, capogruppo, Volvo e due fabbricati ad Alessandria, in reddito imponibile 95.000 euro. Laura Ravetto, quattro fabbricati tra Roma e Milano, reddito imponibile 115.000 euro. In Forza Italia, il ministro Frattin, arriva a 165.000 euro. Giorgio Moulet, 100.000 euro. Cristina Rossella, Rossello, avvocata di Berlusconi, è nel CDA di Mondadori, sei fabbricati e poi dichiara 2,1 milioni di euro. L'ex sindaco di Verona, Flavio Tosio, ora in Forza Italia, è proprietario di tre fabbricati, dichiara redditi per 66.000 euro. Nel centro-sinistra, Letta, nel 2021, ha dichiarato 388.000 euro, mentre Ellis Line, 88.000 euro. Per Roberto Speranza, segretario di articolo 1, reddito 101.000 euro, con cinque fabbricati di proprietà tra Roma e Potenza. Nicola Frattoianni, di sinistra italiana, 105.000 euro. Angelo Bonelli, 79.000 euro. Tra i 5 stelle, come vi dicevo, stupiscono i 34.000 euro di conto se confrontate alle precedenti dichiarazioni milionarie, frutto dell'attività professionale. Chiara Appendino, 90.000 euro. Maria Elena Boschi, 98.000 euro. La presidente di azione, Mara Garfagna, dal reddito da lavoro ha ottenuto 103.000 euro. un fabbricato e due Volkswagen e Matteo Ricchetti con tre fabbricati e un terreno come lavoratore dipendente, ha dichiarato 97.000 euro. Poi quando troverò anche gli altri ve li comunicherò. Però abbiamo visto che di media un parlamentare è intorno ai 100.000 euro. Diciamo che quello è l'imponibile, quindi naturalmente hanno un reddito di circa 13.000 euro, 14.000 euro lordi al mese. Gli togliete quelli che danno al proprio partito, 1.000, 2.000, 3.000, poi togliete le tasse. Diciamo che un parlamentare 7.000, 8.000 euro al mese netti gli rimangono, perché tra i soldi che devono dare al partito, 1.000, 2.000 o 3.000 euro ogni mese, e le tasse rimane quello. Poi se anche ministro prende altri 6-7.000 euro in più al mese, anche se è sottosegretario prende quelle cifre, perché un sottosegretario, ecco, o chiamato anche viceministro, prendono delle retribuzioni che sono di oltre 100.000 euro, che sommate a quella di parlamentare si arriva poi a 200-220.000 euro. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.